Settimana di Pfizer Open Day per tutti i sessantenni. Dal lunedì 31 maggio saranno infatti ben 3.000 le dosi di vaccino a disposizione dei centri della Toscana Sud-Est, un'opportunità riservata a tutte quelle persone con un'età compresa tra i 60 e i 69 anni che non hanno ancora ricevuto la prima dose. Nel dettaglio saranno impiegati 14 centri vaccinali dell'area vasta nell'arco della settimana di somministrazioni straordinarie. Per quanto riguarda la provincia di Arezzo saranno 1.200 le dosi di Pfizer riservate ai residenti con un'età compresa tra i 60 e i 69 anni. Invito tutte le persone di età compresa tra i 60 e i 69 anni a voler aderire alla vaccinazione. Vaccinarsi è importante per sconviggere questo virus in maniera definitiva. Alla Pfizer Open Week potranno accedere anche le persone che si sono già prenotate in data successiva. In caso di somministrazione del vaccino la loro prenotazione sarà automaticamente cancellata. Dunque lunedì 31 maggio le vaccinazioni si svolgeranno a Bibiena e a Sansepolcro dalle 14 alle 20. Martedì 1 e giovedì 3 giugno invece somministrazione in notturna al centro affari e al teatro tenda dalle 20 alle 23. Stesso orario ma solo per giovedì, vaccinazioni anche a Cortona. Sabato sarà poi di nuovo il turno del centro affari sempre dalle 20 alle 23. Ed infine domenica 6 giugno somministrazioni dalle 8 alle 14 a Cortona. Grazie a tutti.